Ancora una volta sembra che l'alta velocità non farà tappa nel Salento. Lo si vince chiaramente dalla presentazione del Piano Sud 2030 del Governo. Non vogliamo un'Italia a due velocità, ce la metteremo tutta per impedirlo, ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Gioia Tauro, sottolineando lo stanziamento di 33 miliardi di euro per investimenti per nuove infrastrutture ferroviarie e stradali che riguarderanno la realizzazione dell'alta capacità e dell'alta velocità per Napoli, Bari e Reggio Calabria, ma non per il Salento, che ancora una volta, afferma Paolo Pagliaro della Lega, è stato trattato come cenerentola da una politica incapace di guardare oltre la punta del proprio naso. Caro Conte, cari ministri, cari pugliesi e salentini al Governo, volete togliervi il prosciutto davanti agli occhi e guardare in faccia la vera cartina geografica del Paese continua l'alta velocità a Lecce e basilare per la crescita dell'intero territorio. Ancora una volta provano a mettere una pietra tombale sul futuro del Salento, dove sono i tanti parlamentari grillini salentini che promettevano di difendere il territorio. L'incapacità regna sovrana in un governo che non ha motivo di esistere e che continua a snobbare il Salento trattandolo come luogo di serie C. Siamo veramente stanchi, conclude Pagliaro, di dover ogni volta evidenziare un disinteresse così ampio verso il nostro territorio. Speriamo in uno scatto d'orgoglio di qualche salentino grillino o piddino che sta a Roma, al Governo, ma ci accorgiamo ogni volta che per loro le giornate romane sono solo delle vacanze lautamente ricompensate.